prego prego si accomodi si sdrai pure qui sul lettino si mette a comodo allora vediamo di cosa stavamo parlando durante l'ultima seduta ah sì mi diceva da quanto tempo è che si sente come se fosse trasparente più o meno da quando la mia ragazza mi ha lasciato come mai vi siete lasciati non lo so lo chiedo a lei visto che se la sta tenendo seduta sulle ginocchia ah sì signorina prego può andare mi parli di un suo sogno ricorrente sogno spesso che l'allegra compagnia degli assurdi sarà ospite dello spettacolo di improvvisazione teatrale dei trama libera tutti il 10 marzo alle 18 al teatro trastevere di roma ma questo non è un sogno è la realtà lei è guarito può andare può andare è andato va bene comunque vi aspettiamo tutti venite a vederci prenotate il vostro posto telefonando al 3 3 8 4 2 1 7 5 8 4 oppure mandando un'email all'indirizzo trama libera tutti chiocciolagmail.com vi aspettiamo e sempre nei vostri sogni chiocciolagmail.com vi aspettiamo il vostro posto